Con i suoi 19.500 studenti iscritti nell'anno accademico 2018-2019, compresi i dottorandi, gli specializzandi e gli studenti che frequentano i master, l'Ateneo Aquilano, forse per la prima volta dal sisma, normalizza la sua situazione, la sua collocazione nel panorama nazionale. L'Università dell'Aquila si conferma così un importante punto di riferimento per la formazione degli studenti di tutto il centro Italia, con un'offerta didattica a 360 gradi, dalle scienze umane a quelle della vita, dall'ingegneria alla medicina alla matematica. Un numero di iscritti che certamente segna una certa differenza rispetto a quello dell'anno del terremoto, numero che si aggirava all'epoca intorno ai 24.500 studenti. Ma non è soltanto ai freddi numeri che si deve guardare, secondo la rettrice Paola Enverardi. Un discreto differenziale che però è motivato dal fatto che in questi dieci anni l'intero sistema universitario ha avuto una rivoluzione complessiva, si sono ridotte le risorse umane, si sono ridotte le immatricolazioni, quindi tutto l'intero sistema ha sofferto. Ovviamente noi in questi dieci anni abbiamo anche avuto un terremoto che ha avuto il suo impatto, l'ho avuto in modo molto visibile all'inizio, anche se poi guardando i dati in dettaglio si vede che sì, abbiamo avuto un po' di abbandono, ma un nucleo di studenti attivi è più o meno rimasto costante. Il numero degli abbandoni era molto alto, quindi era del 26%, oggi siamo al 10%, siamo ancora un pochino sopra la media nazionale. Questo per dire che insomma non è che poi bisogna confrontarsi con la realtà nazionale. Però la cosa interessante è che in termini assoluti poi non ci sono queste grandissime differenze, cioè nel 2007-2008 al secondo anno si scrivevano con questo tasso di abbandono così forte intorno ai 4.500 studenti, oggi se ne scrivono 3.500, quindi sì, chiaramente c'è stato un calo, ma di nuovo è un calo di sistema. A crescere di più, con percentuali di aumento di iscritti intorno al 20 e 30% rispettivamente, sono le lauree di Ingegneria Industriale e dell'Informazione. Flettono invece le iscrizioni a Psicologia in pieno allineamento con la tendenza nazionale.